Livio eserlo, arriviamo prima... Quanto hai fatto la sicilità? Partiamo insieme, quando dicevamo che non faccio più la maniera! Sì e la presetiva dicevo in지ielo... Allora arriviamo a la maniera. Allora... Allora ora facciamo attività fisica come è possibile tutta la strada! non ti fanno morire non ti fanno messa non ti fanno tre ore ma non sei capito ma fà di fatti e io... io sono mangiato mi ferma perle voglio robarci no, naturali 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 Deciano, comunque quest'estate... Deciano, quest'estate... Oh ma torna a fare che io ti vedo con luce mia però Non ci può essere ormai Non ci può essere ormai Eh, a parlare io sto peggio un pane Io ti vedo io Io ti vedo io Con chi vuoi? Scusa, Deciano Scusa un attimo Ma per questo volevo mettere lo mio Oh vedi perché Perché abbiamo fatto il presente Eeeh Ma se tu te condividi in un genere Ascolta quello che ti dico a io Quando torna a fare due bini Tu cosa dici che avanti a un bini? A chi? No, con ciò che andavano il corpo E' il mio dato E' il mio dato Avanti a un bini Avanti a un cancino russo E' un cancino russo E' un cancino russo E' un cancino russo Che avanti a un cancino russo E' un po' di nane E' un po' di nana E' un po' di nana Bravo questo quando vai a fare Se ne sta norco Ci tolà Ci che vedi Ci fai a cercare Ne sto vorano cercare E' un po' di nana E' un po' di nana E' un po' di nana non c'è il campanello, se arriva il campanello, si arriva il campanello e poi arriva i cahido che avevano male che ora conoscevano i cahido delle varie cahido però poi se vai a destra è la stanza che cahido scende e nasce da sul campanello se vai a sinistra però ora si può parare solo a piedi per chi è pezzigliato che da Stato in pratica nasce a parciali dopo dove c'è il popolare parciali per ricavare la curva se vuoi girare la curva? no se vuoi girare la curva? 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 prima di girare la curva si arriva nella zona P ah ma che lasciate che ti senti a finire? mi sto spiegando non c'è il campanello non c'è il campanello non c'è il campanello non c'è il campanello s I T' stai mangiando e se vuoi girare la curva? come un friccinato e voi sapete che dici tu Antoni campanella a Cina se vuoi girare la curva? e non c'è il campanello ora ora tiassimo morsà oh mangi mangi a Te cosa arriva? tiè? mettiammi tu ma un latte e cucina senza gente la coppa come si chiama quella della naturalezza? la coppa del nonno la nomada che si le viene velo qui la meta che mi ha mandato e la foto perché il signore non torniamo per noi la vignazza spero grazie grazie Pesiano stanotte il bagno è chiuso di suo cugino stanotte la voi ma la mia amica l'ha incontrato? e compagno al suo felicità